Salerno si è rimessa in moto, serrandi aperte e traffico tornato ai livelli dei mesi scorsi. La città vuole tornare alla normalità anche se con tutte le precauzioni del caso. La lotta al coronavirus entra nella fase 2, quella della convivenza ma anche del senso di responsabilità. Da oggi sono aperti i saloni di barbieri, parrucchieri ed estetisti, ma anche i mercati per quanto concerne il comparto alimentare e che oggi sono stati visitati dal sindaco Napoli e dall'assessore Loffredo. Per l'abbigliamento invece bisognerà attendere ancora qualche giorno anche perché c'è da sciogliere il nodo della sanificazione della merce. All'assessore Loffredo di abbiamo fatto un giro per i mercati oltre che per verificare la tenuta dell'impianto normativo che è stato suggerito e attuato anche per dare un augurio di buon lavoro ai tanti mercatali che hanno in questi mesi subito un danno economico rilevante. Mi è parso una situazione ottimistica, i miei concittadini hanno avuto come al solito una grande capacità di intelligenza e di intuito nel rispettare le prescrizioni loro suggerite e quindi mi pare che c'è stata una festa per gli occhi. Merce bella sui mercati, colorata, acquirenti che rispettavano la fila, che svolgevano le loro compiere con assoluta discrezione, con assoluto rispetto delle norme e quindi mi pare che sia un buon inizio. Sabato ho fatto un giro al parco del mercatale e altri luoghi urbani, abbiamo elevato qualche contravvenzione. La cosa che più fa fatica a percepire la gente è la necessità del distanziamento di sicurezza. E questo è una cosa, io non mi stanco mai di dirlo ai miei concittadini, l'emergenza non è passata, si sta attenuando, ma il virus è ancora attivo nel mondo, in Italia e in Campania. Se noi in Campania, grazie alle azioni di prevenzione del Presidente Luca, siamo stati in grado di contenere drasticamente la diffusione del contagio e a Saleno devo dire che siamo in condizioni di assoluta tranquillità relativa, tranquillità relativa perché i contagi sono zero, va capito che basta un atto sciatto, una disattenzione, una distrazione, un'imprudenza per ripiombare in condizioni drammatiche. La città però è tornata a bullicare di vita, persone in strada, volti più distesi, tanto che dietro le mascherine di ordinanza si intuisce anche qualche sorriso. Clienti e gestori di alcuni negozi si sono ritrovati dopo 70 giorni, molti hanno riscoperto il gusto e il piacere di un caffè consumato al bancone di un bar. Da Mercatello a Via Roma, passando per Corso Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele, le strade sono tornate affollate di persone e di veicoli, la voglia di ricominciare è forte e da giovedì ripartirà anche la ristorazione. Comunque io faccio un in bocca al lupo a tutte le attività commerciali, artigiane, che hanno aperto le serrande, hanno alzato le serrande stamattina e mi permette di fare un appello a tutta la comunità salernitana, che è la cosa più importante. Sicuramente abbiamo dato sempre grandi provi di civiltà, di socialità, di solidarietà. Sono certo che ancora una volta vinceremo un'altra battaglia, quella oltre al distanziamento sociale delle norme, dove abbiamo già dato grande prova e non ci fermeremo, è quello di comprare locale. Per la ristorazione, come ha indicato appunto il presidente De Luca, che dobbiamo dare atto di aver fatto un grande lavoro di sintesi tra il protocollo dell'Ineil sui protocolli sanitari, dando la possibilità di non lasciare nessuno dietro, sia i locali con strutture più piccole che quelle più ampie.